Buongiorno, oggi parliamo della meditazio, secondo grado della lezione divina. Il contesto è quello della seconda settimana di questa scuola di preghiera. Questa settimana si occupa di illustrare in modo dettagliato i passaggi di questa modalità di preghiera che propongo per aiutarvi ad incontrare il Signore nel profondo del vostro cuore e a lasciarvi istruire, non solo istruire, ma anche rafforzare e plasmare da Lui. Dunque, questa settimana ci occupiamo della nostra modalità di preghiera che è trinitaria, la prima parte è dedicata allo Spirito Santo, la seconda a Gesù Parola, la terza al Padre. Dentro la seconda parte ci muoviamo attraverso i quattro gradini della lezione divina. Lezio, meditazio, orazio, contemplazio. La lezione l'abbiamo fatta ieri, la meditazio la facciamo quest'oggi. In che cosa consiste la meditazio? Nella meditazione del testo biblico della Parola di Dio. La meditazione ha un'importanza particolare perché è il momento in cui, in modo più forte, la Parola di Dio viene ad interagire con la mia vita. Perché? Perché provoca il mio intelletto. Lo ha provocato già subito attraverso la lettura con la comprensione. Non solo l'intelletto ma anche il cuore, ma è sempre così, sempre tocca al profondo di noi. Ma diciamo che devi capire quello che ti viene chiesto, quello che ti viene detto nella Parola di Dio. Ma la meditazione comincia un rapporto personale tra te e la Parola di Dio. E in questo rapporto personale tu vieni provocato e suscita in te pensieri, riflessioni, accostamenti che servono per strutturare la tua vita perché sia secondo Dio. Il primo elemento è cercare di capire quello che ci viene detto. E per cercare di capire quello che ci viene detto, credo che una cosa importante sia quella di capire in che modo vengono usate le parole. Se tu hai dei dubbi, non sempre le parole che troviamo nel Vangelo hanno lo stesso significato della omologa di oggi. Già pensiamo che sia una traduzione. L'ideale è se questa parola che il ti rivolge tu ti la leggi nel testo greco. Esistono delle app e anche dei libri che ci portano il testo del Nuovo Testamento interlineare con la sua traduzione sotto. Quindi se la leggi in greco è ancora meglio, ma comunque anche leggendola in greco oppure leggendola in italiano, rimane un punto che non sempre le parole conservano lo stesso significato o in un certo contesto spirituale abbiano il significato a cui tu sei abituato. Per cui a volte un evangelista usa quella parola con un tono particolare, esempio la parola mondo in San Giovanni. Ebbene, vedere quando quella parola è usata in altri testi, magari dello stesso evangelista, magari del Nuovo Testamento, a volte anche dell'Antico Testamento, quando ciò può essere significativo. Questo è un primo modo di meditare quando abbiamo bisogno di comprendere una parola. A volte puoi intuire che quella parola è un po' il cuore di quel testo di quel giorno e allora magari vuoi approfondire quella parola. Però bisogna stare attenti anche a non perdersi in uno studio così filologico, esegetico, molto mirato, che poi spenga un andamento della lezione divina che è un andamento naturale, molto naturale, in cui si passa da una lettura del testo a una riflessione interiore, alla meditazione perché il testo provoca la mia intelligenza, ad un movimento della volontà perché tu desideri quei beni che ti vengono mostrati nel testo, ad uno stare davanti a Dio perché quello è il frutto della preghiera. Per cui la meditazione ha senso farla con profondità nel contesto di un movimento di incontro con il Signore. Pensi su quello che ha da dirti quella parola anche nel contesto della tua vita. Che cosa ha da dire a me questa parola oggi? Qual è il contesto della mia vita? Si applica alla mia vita? Cerca di fare in modo che non sia una lettura solo morale, cioè su quello che devo fare, ma danne prima di tutto una lettura teologale, cioè che tocchi la tua fede, speranza e carità, le virtù teologali. Prima di tutto lì, perché noi abbiamo dei difetti che si esplicitano in sbagli morali, i peccati, ma la ragione di quei difetti solitamente ha una radice che molte volte è riconducibile a un problema teologale. Ed è solo mettendo a posto le questioni teologali che poi metterei a posto quelle morali, perché ci va un ordine nella vita. Non si può avere in disordine la relazione con Dio o certe cose più profonde della nostra vita, la nostra affettività, e avere in ordine la parte morale della vita. È il contrario esatto. È un discendere delle cose dal profondo di noi stessi verso l'esterno. Per cui mettiti a riflettere attentamente, seriamente, profondamente, risalendo ai principi primi per quanto riesci, fin dove vedi i collegamenti. Poi passa alla fase seguente. Bene, ricapitolando, quindi la meditazione cerca di farla con attenzione, pensando a quello che ti dice il testo, e uno, cercando magari il significato di una parola che è centrale in quel contesto, due, pensando che cosa abbia da dire Dio a te in questo contesto, tre, ricorda di farlo con uno sguardo teologale, ovvero basato su fede, speranza e carità, perché è dai principi primi che cambiano poi le nostre azioni morali. Non fermarti direttamente sugli aspetti morali. Analizzali molto, molto, molto più tardi. Auguri di un buon proseguimento, di una buona scuola di preghiera. Ci vediamo domani.